vai ciao amici siamo siamo di ritorno abbiamo concluso diciamo il nostro intervento il percorso Royal Hotel Sanremo niente come abbiamo già detto abbastanza abbastanza dire poco abbastanza è una struttura super organizzata ci abbiamo messo un po a diciamo a prenderci la mano all'interno dei locali però siamo siamo ne siamo usciti con un buon numero di scatti niente vedremo cosa cosa fare in post ci affideremo con la parte lì adesso appena rientriamo diciamo di sì è stata una cosa abbastanza intensa la struttura la struttura ci ha consentito di fare differenti tipi di tagli sempre stando sul un po sul su ciò che era la linea iniziale quella di diciamo far vedere il rapporto del personale nelle sale non solo però diciamo che il primo primo filone era questo non quello di inquadrare le camere solo quello di inquadrare gli oggetti così nudi e crudi perfetti ma quello di avere un po di relazione con il personale che è anche dietro alle quinte fa sì che tale immensità possa essere poi goduta dal cliente quindi penso che sia un hotel top 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 diciamo che abbiamo voluto da spazio alla realtà delle cose che quello che secondo noi mancava 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 tuttora quindi quindi niente vediamo vediamo cosa fanno anche gli altri poi in post vediamo cosa cosa ne uscirà cosa trarremo come conclusioni siamo queste sono le conclusioni le nostre conclusioni diciamo così hot a caldo e vediamo poi una volta che abbiamo terminato il progetto lo valuteremo poi insieme dai per ora facciamo ritorno alla prossima ciao ciao ciao